All'inizio della puntata vi abbiamo parlato di un lavoro che piace molto ai giovani e ai giovanissimi, lo sviluppatore di app. È un lavoro che combina l'aspetto tecnologico, ha anche un certo grado di creatività, è quasi artigianale per certi aspetti. Allora vediamo con Roberto Anselmi. Chi c'è dietro le app che usiamo ogni giorno per comprare un biglietto del treno, guardare i programmi di un festival o ordinare la cena? Ci sono loro, gli sviluppatori. Una professione nuova, nata con il boom di iPhone e suoi fratelli, fatta spessa da giovani e giovanissimi. Fare lo sviluppatore è un po' come una vocazione, lo vedi, diventa proprio una missione giorno per giorno riuscire a portare a casa una bella applicazione, nel nostro caso visto che facciamo applicazioni, fatta bene, nella maniera corretta. Quello che fa Stefano tutti i giorni, non solo, è un vero e proprio mestiere, con i suoi ferri, i suoi linguaggi e le sue sfide quotidiane, per dare forma alle idee o rispondere alle richieste dei committenti. Lo viviamo come una continua esperienza giorno e notte, a volte a me capita anche di sognare, di programmare, di programmare nel sonno e risolvere problemi nel sonno. Un lavoro nuovo è che il mercato richiede sempre di più, come ha dimostrato anche l'incontro torinese Swift Heroes, dedicato al linguaggio che Apple ha creato per programmare le sue app, al quale hanno partecipato 350 persone, provenienti da tutta Italia e dall'estero. Come sei arrivato a fare questo lavoro? Ho studiato Ingegneria del Cinema qui a Torino e nel frattempo c'è stato il boom degli iPhone e mi sono trovato per caso a lavorare per la mia azienda che iniziava in quel periodo lì a sviluppare applicazioni mobile. Ho iniziato a fare un lavoro che mentre studiavo non esisteva neanche. Digitale che più digitale non si può, ma che nel suo creare qualcosa di nuovo, con una forte utilità pratica, ha qualcosa di simile al lavoro di un artigiano. Un lavoro assolutamente paragonabile a quello dell'artigiano e probabilmente abbiamo meno tempo a disposizione di tanti artigiani, ma la sfida è anche quella, comunque assolutamente sì. Nuovi artigiani di oggi, che ogni giorno creano, rinnovano, aggiustano, quei manufatti materiali di cui ormai non possiamo fare a meno. E davvero non c'è limite all'inventività per gli sviluppatori di app, visto che le applicazioni mobili sono potenzialmente infinite.